Questa puntata è offerta da Tribe Rock Your Swiss Experience Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata di Caffè Shantan Quest'oggi abbiamo in collegamento un personaggio molto importante della musica italiana Abbiamo in collegamento da Milano, penso, da Milano, Franco, il maestro Franco Mussida Salve, salve a tutti Buongiorno Franco Bentrovati Grazie, allora, in assoluto grazie per aver accettato il nostro invito Partiamo subito con il ricordare l'appuntamento prossimo Che sarà per sabato 26 novembre A Maroggia, presso la Tria House con Do Music Dalle 19, per la presentazione del suo lavoro Il pennezzo della musica e il viaggio di Yotu Giusto? Si Ho pronunciato correttamente Yotu, è corretto questo Yotu, Yotu perché c'è l'accento sulla O C'è l'accento, infatti, ho visto adesso, l'ho visto all'ultimo momento Yotu Bene Allora, innanzitutto ho una curiosità Questo lavoro, ho visto che lei ha utilizzato una chitarra classica a baritona È una chitarra che non è utilizzata molto spesso Recentemente, soprattutto almeno Perché la scelta di questo strumento? Non so se è stata utilizzata molto spesso o no Nel senso che in ogni caso è uno strumento molto personale Che è stato creato da una idea Mi ha proprio una sorta di idea che mi è venuta nel prendere uno dei miei strumenti classici più importanti Che è una set art case degli anni 90 Quindi una Gibson e una chitarra elettroacustica Quindi quelle con la cassa piccola di legno pieno, per certi versi E quindi prendere questo strumento E di dire a mio caro amico Liutaio, che è Marco Vignuzzi Di mettermi nella condizione di suonare questo strumento classico Come se fosse uno strumento elettrico Cioè di poter in qualche modo mettere dentro la mia tecnica della chitarra elettrica In maniera da evitarmi di immaginare Mussida con dietro la chitarra elettrica La chitarra acustica, la chitarra classica Cioè tutte quelle rastrelliere di robe E poi pedalini Tutta sta roba qua che non volevo più E quindi in qualche modo Questo strumento nasce Con l'idea Di essere il pianoforte di riferimento di tutto il lavoro Cioè è il fulcro fondamentale Insieme alla voce E un po' di tutto il lavoro Quindi è un strumento mio Quindi non è sul mercato Ecco, quindi è proprio uno strumento nuovo Sì, ha delle tonalità Io ho ascoltato il disco Per alcuni pezzi E ha delle tonalità molto basse questa chitarra Quindi sono delle tonalità Mi è sembrato molto emotive Che arrivano subito al cuore Ho avuto un po' questa impressione Rispetto a una chitarra Rispetto a una chitarra elittrica Tradizionale Tradizionale Allora Il suono è stato uno delle Delle due componenti essenziali di questo lavoro Quindi la ricerca del suono Io ho tu Di fatto Io ho tu È una Questi due elementi La forza dell'io e la forza del tu Quindi Qualche cosa di assolutamente egoistico Narcisistico Che rimanda sempre a noi stessi E qualche cosa che invece ci unisce al mondo Che ci tra Diciamo che Va oltre noi Per certi versi Ecco, questi due correnti Di fatto sono il mondo della parola E il mondo della musica La musica è È un elemento Che riguarda tutti Noi vibriamo con la musica A prescindere dal fatto che siamo asiatici Europei Africani o quant'altro E quindi c'è un Un metro di comunicazione Che è un metro comune E questo è il tu Che vive in ciascuno di noi Che è il nostro suono La nostra identità Per certi versi E poi c'è l'io Invece che è Il nostro Rimarcare le differenze E la parola ogni volta Rimarca una differenza Ma di fatto La parola non è certamente Quello che unisce Perché a prescindere dal fatto Che le lingue sono migliaia E quindi non ci si capisce Se non con i traduttori automatici Quindi già la parola In qualche modo Non è adatta A essere un elemento Diciamo Comunicazione universale Certo, sì Esattamente E poi Di fatto La parola viene Spesso utilizzata Proprio per In qualche modo Rimarcare Rimarcare elementi sociali Diretti Il nostro modo Di vivere le cose Cioè È Qualche cosa di Assolutamente personale E io ho provato A utilizzare anche la parola Ovviamente Però Con la dimensione del bambino Cioè del bambino Infatti poi arriveremo anche a questo Del bambino Più o meno Come il bambino Della favola Di Hans Christian Andersen Che Vedeva questo re Con questo Vestito Che gli avevano costruito Addosso Che dicevano Fosse meraviglioso Perché del genere In realtà Era Era Nudo E lui aveva Avuto il coraggio Perché Se qualcuno diceva Che non era vestito Gli tagliava la testa Per cui lui Però era un bambino Diceva Ma questo qui è nudo Ecco Allora Ho provato A rimarcare Con la parola Degli elementi Di Sincerità E di Molto diretti Cose Cose molto dirette Che hanno Proprio nella Dimensione anche Dell'ingenuità Per certi versi Come sono detti La loro natura Quindi questi due personaggi L'ingenuità del bambino Che scrive parole E il musicista Che scrive Che scrive Qualcosa che non è Suo Ma che è di tutti E' un po' Questo YouTube Che c'è letta Questo YouTube YouTube All'interno del disco È un bambino Che fa un viaggio Su una barca Su una nave Spinto dal vento del suono Giusto? Sì Concretamente Cosa può fare La musica Secondo lei Sappiamo un po' Dove può arrivare Sappiamo che ha Aspetti purativi Ma cosa vede nella musica Esattamente? Cosa può fare Concretamente? Fa delle cose Meravigliose Soltanto che È come bere un bicchiere d'acqua Quando uno beve Un bicchiere d'acqua Non è che sta a pensare Che cosa sta facendo Quell'acqua La beve Perché è abituato Ed è esattamente Quello che succede Per la musica La musica conduce O ci dà la possibilità Il bicchiere d'acqua Di farci vivere fisicamente La musica Di farci percepire Ciò Che ci fa vivere emotivamente Ovvero La sorgenza Prima Della nostra vita Quindi Che è vibrazione Fondamentalmente Quindi noi Fisicamente Campiamo Perché mangiamo Cibi E beviamo acqua E dopodiché Invece Emotivamente E tutto poi Si trasforma in energia Anche quei cibi E quelle cose Si trasforma in energia Che noi spendiamo In energia emotiva Ma questa energia emotiva Da dove arriva? Arriva da una sorgente Questa sorgente Non è fisica Non è acqua Non è cibo È vibrazione In questo caso La vibrazione vocale È la prima È il primo alimento Che noi possiamo assumere Per fare due cose Uno per darci piacere Perché quando ascoltiamo musica Ci sentiamo vibrare Quindi proviamo Dei sentimenti Entriamo Nella dimensione Di stati d'animo Che ci fanno Sentire che siamo vivi E questo è uno L'altro Invece Che è poi quello Che io utilizzo Normalmente Nel mio lavoro Che non il lavoro Discografico Perché il lavoro discografico È solo Pensato Per poter dare Emozioni Piacere Interrogativi Tutto quello Che in qualche modo Può essere Utile In questo momento A far vedere la musica Da un altro punto di vista Perché è dedicato Alla musica E la mia generazione Questo lavoro L'altro aspetto Invece è proprio Quello Di farlo diventare Una sorta di grande Canocchiale Che ci dà la possibilità Di osservare La nostra struttura emotiva E raccontarci Come è fatta Quindi Su questo però C'è un lavoro Molto diverso Che in questo caso Non è il caso Magari di approfondire Ok Io una Parlando di questa sua Grande Passione per la musica Perché questa sua Voglia anche di trasmettere Musica Anche ai più giovani A questo punto Inevitabilmente Mi viene in mente Il fatto che Lei ha fondato Nell'84 Se non erro Il CPM Questa scuola importante Di musica Avevo C'è proprio una domanda Che mi Una curiosità Lei ha Ha vissuto Appieno L'era analogica Del processo Di creazione musicale Non l'era informatica Lei parla anche Nella presentazione Del Del Penetro della musica Parla di Analogico Analogico Digitale Quindi È a contatto Con molti giovani musicisti Secondo lei Cos'è cambiato Nel processo creativo Dagli anni 70 Al processo creativo Degli giovani D'oggi Nella cartone musicale Come viene creata La musica Oggi Dai giovani artisti Rispetto Agli anni 60 Che era un periodo Di grande Di sperimentazione Lei Ovviamente Ha sperimentato Col proga Quindi Voi Lei Avete Ma io Continuo a sperimentare Anche adesso Questo qui Assolutamente Assolutamente Lei Ho ascoltato Davvero Molto Molto Particolare Dopo arriviamo Anche alla definizione Del Del suo Disco Allora In realtà Certe cose Non cambiano mai I processi Sono sempre quelli Cambiano I mezzi Con i quali Si realizzano Cioè La creazione musicale Nasce sempre Da un bisogno Da una necessità Da un'immagine Da un impulso Che Può essere Nel caso Dei giovani D'oggi Un impulso Che ti lega Tanto Alla dimensione Della contemporaneità Del momento Che stai vivendo Della situazione Emotiva Che vivi Della cronaca Di quel momento Che In questo caso Si producono circa 60.000 60.000 Brani al giorno Questo è più o meno Quello che viene fatto E questi 60.000 Brani al giorno Che vengono In Italia Che vengono Che vengono Realizzati Sono quasi tutti Destinati A raccontare L'immantinente Cioè L'immantinente Cioè Tutto quello che succede Adesso Quindi I ragazzi Che hanno bisogno Di Farsi Sì ma Farsi vedere Che esistono Ecco Che esistono Anche emotivamente Attraverso L'elemento musicale Anche se non sono Publicisti Per cui Basta poco Oggi Per riuscire A mettere insieme Un file Che poi Tu puoi mettere Su YouTube Su Spotify C'è una grande Produzione Individuale I mezzi I mezzi Da questo punto Di vista Sono però Sempre diversi Perché i mezzi Sono diventati diversi Anche i mezzi Di comunicazione Però L'impulso Al fine È sempre quello Come dicevo Stamattina I ragazzi Da scuola Bisogna distinguere Però Due aspetti Un aspetto Riguarda proprio Il territorio Del presente Di ragazzi Che vogliono Anche se non sono Modificisti Di rimarcare Quello che sono E si mettono in luce Vogliono mettersi in luce Vogliono in qualche modo Farsi conoscere Vogliono creare una comunità Con i loro pensieri Al proprio ego Al proprio Narcisismo Come normale che sia Perché gli artisti Un po' Sono così Assolutamente E poi ci sono invece Delle persone Che guardano Il loro lavoro Non proiettato Adesso Ma provano Immaginare Di lasciare Qualche cosa nel tempo E quindi Questa è la grande differenza Molti di questi ragazzi Spariranno Faranno i camerieri Faranno I ferrovieri Faranno I profisti Faranno altri lavori Quelli che in qualche modo Hanno il coraggio E l'abilità Di provare A non parlare Dell'adesso Ma provare A rilanciare Un po' più a lungo Vuol dire Che hanno più speranze E possibilità Di campare Di musica Ed è quello che succedeva Un tempo Non è tanto diverso Oggi cambiano i mezzi Per certi versi Perché c'è più propensione A parlare Di adesso Urlando Dicendo Non ce ne faccio più Mi siete tutti Delle merde Cioè Tutto quello Che in qualche modo È Il contingente Quindi C'è tanta gente Che parla di questo Ce n'era molto meno All'epoca All'epoca Erano più canzoni Che parlavano D'amore Che parlavano Di cose Bisogni fisici Un tempo Nel dopoguerra Le droghe vere Erano Era far l'amore Dieci volte al giorno Cioè Oggi È Differente Ok Sì E si parlava D'amore Cioè Le canzoni Parlavano d'amore Perché La mia generazione In qualche modo Ha vissuto la guerra E quindi Una voglia d'amore Una voglia d'amore Capito Adesso è diventato tutto Molto più depressivo Poveri ragazzi E quindi Noi dobbiamo capirla Questa generazione E provare a dare una mano Incanalarla Ok E dargli una mano Come? E dargli una mano Assolutamente Sì Allora ho capito Abbiamo capito Quello che volevo dire Lei ha collaborato In passato Con Parlando di Di grandi artisti Con Tantissimi artisti Chiaramente Mi vengono in mente De Andrea Battisti Che Cosa ricordo Di questi due artisti Così importanti Che Non parlavano Sempre d'amore Loro Nel senso che Loro stesso Erano molto Anche Soprattutto Andrea A volte Era molto Distacrante Nel modo Di Trasmettere Forse erano due eccezioni Nel Se si vuole Dunque noi Teniamo presente Sempre che Quando si parla Di parlare Di battisti Bisogna dire Si parla di mogoli Non di battisti Giusto Perché le parole Non sono quelle di battisti Ma sono quelle di mogoli Però Battisti E De Andrea Fanno Un perfetto Yotu Secondo me Perché De Andrea Pensate questo Trovato Yotu Si Perché De Andrea È un intellettuale Che fa Della parola E del racconto Attraverso la parola La sua fonte principale Di Dialogo Con il pubblico Mentre invece Battisti È quello Che Del feeling E della musica In qualche modo Ha fatto L'elemento fondamentale Del suo dialogo Con il pubblico Quindi Uno Attraverso La sua musicalità E la sua La sua voglia di sperimentazione Musicale Sì però musicale Sì musicale Fabrizio invece Ha utilizzato Quel Battisti Ha usato Un massimo Di musicalità Per rivestire La parola Fabrizio Ha rivestito La parola Utilizzando Un minimo Di musicalità Minimo Nel senso Che la sua Ci sta Questa è una cosa Dimensione Dimensione Di musicista A 360 gradi Poi ha utilizzato Meravigliosi musicisti Piovani Cioè voglio dire Ma il suo Comporre le canzoni Era una sua chitarra Con un grande amore Per i francesi All'inizio E Diciamo Una preparazione Abbastanza limitata Aveva i berberi Di fianco Poi per fare gli arrangiamenti Non faceva prog Assolutamente Ecco ovvio Non faceva prog Di Andrei Di Andrei Ovviamente Il grande Di Andrei I testi Erano fantastici E erano la cosa fondamentale Era lui La sua chitarra E poco Quindi è stato Uno dei più grandi Cantanti italiani Sicuramente Anche nell'espressione Assolutamente Sì Anche se Sarebbe interessante Vederlo Nella sua progressione Diciamo Artistica Dopo Dopo L'incontro Con 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 la PFM È diventata Un'altra cosa Anche nel suo rapporto Con il pubblico Anche nel suo rapporto Con la sua voce Anche nel mondo Il cambiamento Questo è qualcosa Di straordinario Perché è diventato un pezzo La musica Secondo me Ricalca totalmente Quello che è il testo Di una musica Molto Di Io tu È perfetto Nel senso C'è un equilibrio C'è un grande Passo avanti Nel brano Ma in quel brano Veramente io trovo Che sia Sì Però Questo Indubbiamente È riuscitissimo Poi anche Grazie Alla bellissima Diciamo Alla bellissima Interpretazione Che poi Flavio Premier Ha fatto Con la sua Fisarmonica E l'ha messo in risalto In una maniera Straordinaria Diciamo che però Quel Quel brano Da un punto di vista Il BPM Da un punto di vista Del suo portato Era un portato Più o meno Che si rifaceva All'inizio Io penso che I brani In cui la PFM Ha lasciato Tanto il segno Sono quelli Che hanno modificato In maniera Anche Anche un po' Armonico Strutturale Da un lato E soprattutto Immaginativo Dall'altro Marinella Era un funerale È diventato Una favola È un po' Quello che volevo dire Col giudice Avete rafforzato Hai trasformato In quel caso Sì 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 Ma voglio dire È così Cioè Poi Il pescatore Da una balla È diventata Una festa Una festa Popolare Quindi Cioè Sono Sono state Tante Tante cose Che hanno Conteguito Un'altra Storia Per Perfetto Allora Io Concluderei Questa Pacevole Chiacchierata Con lei Rinnovando Ancora L'incontro Questo Amaroggia Questo Il prossimo Sabato 26 novembre Alla True House Tondo Music Dalle 19 Esatto Sarà una serata Anche dove ci sarà Musica Chiaramente Ci sarà Chiacchiereremo Ci sarà Musica Che tipo di serata Ci spettiamo Ma Allora Il brano Sono Il L'album Sono 13 Sono 13 Pezzi Quindi Sono 13 Viaggi Con Tanti Approcci Diversi Dal punto di vista Strutturale Ci sono Brani Strumentali Ci sono Canzoni Ci sono Canzoni Evolute Ci sono Brani Recitati C'è Veramente Una Voglia Di Raccontare A Attraverso La musica In forme Molto Molto Diverse Sempre Senza Violenza Perché Non è Il caso Almeno Per quanto Mi riguarda Sempre In maniera Molto Diretta E' Molto Ferma Ma Senza Violenza Questo Viaggio Nel Pianeta Degli Affetti E Della Musica Da un Lato Dedicato Appunto Alla Mia Generazione Perché Sono I brani Proprio Dei manifesti Indicati Alla Musica Questo Pianeta Della Musica Così Come L'oro Del Suono Così Come Il Monto In Una Nota Sono Brani Dedicati Esclusivamente Alla Musica O Diciamo Alla Arte In Generale Che Poi Veicola Bellezza Il Lavoro Della Bellezza Con Questi Brani Quindi Saremo Lì Farò Qualche Accenno Musicale Sicuramente Vivremo Di Momenti Musicali Per Far Sentire Questo Strumento E Quindi Mi Porterò Dietro Dello Strumento Per cui La Cosa Importante Sarà Condividere Lo Spirito Di Questa Cosa Qua Quindi Volentieri Vengo In Ticino Vengo Da Voi Anche Perché Io Il Ticino Non Lo Mollo Nel Senso Che Molti Non Lo Sanno Ma Io Sono Tutti I Giorni Visitabile In Una Delle Cupole Della Splash Spa Di Rivera Dove C'è Suono Di Sole Che È Una Installazione Con Un'ultimissima Domanda Che Mi Incursiva Quando Io Ho Ascoltato Questo Mattino Alcuni Alcuni Brani Ho Definito Subito Questi Brani Pop Poi Ho Detto Sicuramente Al Signor Franco Monside Non Dico Che Pop Perché Sicuramente Aspetta Perché Ti Oppenderà Dico Non Poi Ho Visto Che Lei L'ha Definito Come Genere Ultra Prog Pop Ha Giunto Il Pop Quindi Per Fortuna Stiamo Sulla Tessa Lunghezza Donda Nel senso Che Per me È un Onore Perché È vero Che c'è Del Prog C'è Della Sperimentazione Davvero E Ci sono Dei suoni Molto Particolari Anche Variazioni Mi Corrigo Se sbaglio Armoniche Molto Particolari All'interno Della Ma Anche Strutture Molto Diverse Esatto Però Poi Alla Fine È vero Che È Tutto Molto Ascoltabile Ascoltabile E questa è la cosa Secondo me È la cosa più interessante L'invito Tutti Realmente A ascoltare Questo disco Perché C'è Dell'ottima Musica Non Difficile Da Ascoltare Posso definirla Così Era esattamente Quello Che volevo Fare Perfetto Bene Ci vediamo Appuntamento Noi ci vediamo A Marroggia Il 26 novembre Alla Treehouse Tondo Music Io Franco La ringrazio Per la sua Partecipazione Grazie a voi Piacere Bellissima Chiarazione Grazie a voi Ticinesi E a presto Grazie A presto A presto Grazie a voi